Sono arrivati in moto e con il rombo dei loro motori e con i claxon hanno salutato dalla strada i bambini della pediatria ricoverati all'ospedale San Donato di Arezzo, davvero un babbo Natale speciale. Noi diciamo sempre che ci facciamo un regalo per Natale, non è che portiamo un regalo noi, ci facciamo un regalo nel venire qui perché capiamo che è una cosa importante e ci fa tanto piacere. I bikers, componenti del motoclub Aretino di scorsi pochi, hanno poi portato in dono giochi e non solo al reparto di pediatria in collaborazione con la tribù dei Nasi Rossi e con la Fratres di Rigutino. Il gruppo donatori Fratres di Rigutino ha deciso di partecipare all'iniziativa del motoclub di scorsi pochi con la donazione di tre otoscopi per il reparto di pediatria. Di scorsi pochi! Non facciamo l'iscrizione personale, però chi vuole aderire vedo che siamo veramente tanti tutti gli anni e ringrazio tutti, ringrazio tutti dal motoclub di scorsi pochi. Questi scorsi pochi nasce purtroppo dalla morte di mio fratello. Nel 2016 purtroppo è venuto da mancare, da lì abbiamo fatto questo motoclub e poi da lì è venuto fuori anche questo discorso di Nasi Rossi, pediatria e tutto quanto. Discorsi pochi perché significa che contano i fatti? Bravo, mio fratello diceva sempre discorsi pochi. Grazie.